Di detto di vero poi Lo sport, la Igor Voleinovara ha vinto la finale di andata di Challenge Cup per 3-0 La Igor Voleinovara di Lorenzo Bernardi parte con il piede giusto nella finale di Challenge Cup superando per 3-0 il Nant al termine di una partita combattutissima azzurre trascinate da un ottimo Abusetti, 13 punti, 60% in attacco e dall'eccellente esordio di Marcova, migliora giocatrice dell'incontro con i suoi 17 punti di cui 4 ace molto pesanti 26-24, 25-22, 25-20, i parziali Loro non è che perché giocano una squadra in una liga francese che forse è un po' meno importante di quella italiana o quella turca, siano una squadra di minor livello Loro non sono una squadra molto impegnativa da giocarci contro Abbiamo vinto il secondo set, sembrava ormai canalizzato verso un set facile e loro una difesa, un topo a muro, una difesa che fanno sicuramente della loro forza quell'aspetto del muro difesa, stavano per rientrare Quindi noi dobbiamo pensare, aspettarci quando giocheremo con loro di nuovo dovremo aspettarci che per fare punto dovremo schiacciare 3-4 palloni tutte le volte Vincere aiuta a vincere, vincere da morale, da consapevolezza nei propri mezzi quindi tutte queste cose qua rafforzano ulteriormente le fondamenta di questa squadra qui E' chiaro che dobbiamo avere l'umiltà di sapere che non abbiamo vinto niente che non dobbiamo andare a Nantes con l'idea di vincere i due set No, assolutamente, noi dobbiamo andare a Nantes con la consapevolezza e la voglia di vincere la partita Ma detto questo, nel frattempo c'è Vallefoglia che sabato arriva e sicuramente come a Casal Maggiore cercherà di metterci in difficoltà Grazie